Io perché vado tutti i giorni a questo parco e mi piace perché se no non ci saranno più questi alberi e l'ambiente potrebbe anche morire. Francesco non vuole che questi alberi muoiano, lui è uno dei tanti bimbi che giocano nel parco in via della fornace bizzarre realizzato 17 anni fa e che ci dicono i residenti rischia di essere cementificato dal comune di Pescara per costruirci un asilo. Il tutto in fretta e in furia, sono oltre 200 le famiglie che difendono a spada tratta il parco, luogo di ritrovo di grandi e piccini, sì all'asilo ma magari in un'altra zona, Erika Pellagatti è una delle residenti. È successo che due giorni fa scendiamo e troviamo le ruspe in questo nostro piccolo parchetto, comunque un'area che ci sta molto a cuore, chiediamo ma che state facendo, state aggiustando qualcosa e loro ci dicono no signora, verrà tutto abbattuto, ci verrà costruito un asilo. Cioè noi veramente ci viene un colpo al cuore, noi qui ci siamo cresciuti, mia figlia ha 23 anni e è diventata grande su questo parchetto, l'unico parchetto della zona, gli unici alberi della zona, l'unico posto dove i bambini stanno sicuri e possono giocare, dove gli anziani qui tutti i pomeriggi si vengono a riposare, a svagare. Per che cosa? Per l'asilo, ok l'asilo è una cosa importantissima, abbiamo aree dismesse a 20 metri da qui, donate al comune e lì non rimangono all'abbandono. Guardate voi, guardate che meraviglia, abbiamo qui l'unica questa area verde di tutto il quartiere, l'unica area ben tenuta a cui noi ci teniamo tanto, c'è ventificata. Qui abitano solo in queste cinque palazzine 125 famiglie, famiglie parliamo di una persona, per famiglia moltiplichiamole per più tutto il vicinato, però siamo veramente arrabbiati neri e stiamo andando avanti in tutti i settori, in tutte le vie che possiamo usare. Anche quelle legali? Ma certo, è la prima cosa che faremo. Sì, noi invitiamo il sindaco perché forse lui non è mai venuto in questo luogo che può vedere da sé la quantità di alberi, anche di ottima, stanno bene, sono curati. Adesso non si può sempre fare che per dare un servizio in più alla cittadinanza, che certamente gli asili sono indispensabili, si toglie un servizio alla cittadinanza che è il verde. Non possiamo fare il gioco delle tre carte. Questo parchetto, per quanto piccolo, è tenuto benissimo, è vissuto tantissimo, non può essere cementificato.